Lei è l'assessore alla viabilità, lo ricordo bene? Lei è l'assessore alla viabilità. In questo Consiglio Comunale abbiamo più volte portato il tema della gratuità per i disabili sulle strisce brutte. Ricordo che io interroga il sindaco proprio nella prima seduta di Consiglio Comunale, parliamo di circa un anno fa. Recentemente, qualche mese fa, non ricordo la data, fu presentata dalla consigliera Giaccio una mozione sempre per dare mandato all'amministrazione di prevedere la gratuità per i disabili. Lei, assessore, e tutta la maggioranza bocciò quella mozione prendendo l'impegno in questo Consiglio Comunale che sarebbe stata prevista nell'arco di un ampliamento delle strisce brutte. Io ho proposito già all'epoca un anno fa che sarebbe bastata un'ordinanza sindacale per sancire la gratuità sulle strisce blu. Perché noi più volte anche in questo Consiglio Comunale abbiamo portato il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. L'istituzione, ancora si deve costituire, ma comunque si è dato mandato di istituire la consulta per i disabili con il relativo regolamento, di avviare il lavoro per la redazione UPEPA, cioè di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma a mio avviso la prima azione, la prima opera per un piano di eliminazione delle barriere architettoniche è garantire il diritto alla mobilità per i cittadini disabili.